idea la trasmissione di RTV 38 che vi segnala gli eventi più interessanti degni di nota della nostra regione iniziamo subito con alcuni appuntamenti da non perdere Pinocchio, Harry Potter, Topolino, Heidi e tutti gli altri in una mostra fra illustrazione e sogni dall'archivio Salani vediamo quali sono gli altri eventi in Toscana Palazzo Strozzi a Firenze ospita la mostra Nascita di una nazione tra Guttuso, Fontana e Schifano altre idee per questo fine settimana al cinema il film Il mio nome è Thomas con Terence Hill è tutto alla prossima puntata di idea la Toscana da vivere